Beato Giovanni Duns Scoto, nacque tra il 23 dicembre 1265 e il 17 marzo 1266 in Scozia, da cui il soprannome Scoto. Duns è considerato uno dei più grandi maestri della teologia cristiana, nonché precursore della dottrina dell'Immacolata Concezione. Giovanni Paolo II lo ha proclamato Beato il 20 marzo 1993, difendendolo cantore del Verbo Incarnato e difensore dell'Immacolato Concepimento di Maria. Siamo nell'Immacolata Concezione, uno dei precursori, come già precedentemente detto, Beato Giovanni Duns Scoto, è uno dei grandi ammiratori dell'Immacolata Concezione. Oggi con noi a farci compagnia sarà Padre Francesco Taronna che innanzitutto ci introdurrà un po' l'antecedente a Beato Giovanni Duns Scoto e poi in realtà proprio in onore dell'Immacolata Concezione ci darà ancora maggiori spiegazioni sulla vita e su questo amore così grande di questo Beato Giovanni nei confronti della mamma immacolata. Allora buongiorno Padre Francesco, ben ritornato a Teleradio Padre Pio. Grazie sempre per questi inviti così ben apprezzati anche da parte mia. Allora prima a Telecamera Spente ci dicevi che prima di iniziare questa tematica su Beato Giovanni Duns Scoto dobbiamo andare un po' alle origini di questo Beato. E' più che del Beato, del dogma dell'Immacolato Concepimento di Maria. Certo non è una cosa facile né semplice se ci sono volute appena appena dodici secoli per poter arrivare poi alla definizione pontificia di questa verità, di questo dogma dell'Immacolato Concepimento di Maria. All'inizio di questo problema dobbiamo mettere sempre l'inizio della generazione dell'uomo e della donna. Dobbiamo parlare di Adamo e di Eva, i nostri progenitori, i quali vivevano nella santità originale, vivevano nella santità della vita tutte e due, se non che a un certo punto si è infilato il nemico di Dio e il nemico dell'umanità, Satana e ha indotto i nostri progenitori a peccare, a disobbedire alla legge di Dio. Tutti sappiamo che Dio aveva detto a questi nostri progenitori mangiate di tutto quello che è stato creato per voi, servitevi di tutto quello che trovate nel paradiso terrestre, però non toccate l'albero della vita. Satana che non si fa mai i fatti suoi e non se li è fatti mai questi fatti suoi fin dall'origine della creazione dell'universo intero, tanto che riuscì anche nella sua superbia a sfidare la potenza, l'onipotenza di Dio. E dobbiamo ringraziare anche il nostro bel San Michele di cui abbiamo parlato in qualche altra circostanza, se riuscì a sconviggere questo nemico invernale e metterlo a tacere. Ebbene, Satana che deve fare il suo dovere e lo sa fare molto bene, indusse in tentazione anche Adamo e Eva e gli fece cadere nella disobbedienza con tutte quelle astuzie che seppe mettere in mostra per far cadere i nostri tetragoni progenitori Adamo ed Eva. E una volta caduti nella disobbedienza è venuto fuori quello che noi chiamiamo abitualmente il peccato originale, il peccato di origine. Quel peccato di origine che poi viene trasmesso di padre in figlio per generazione naturale. A questo punto si pone il problema. Maria, la madre di Gesù, la madre di Dio, la madre della Chiesa, la madre di ciascuno di noi, è stata presa anche per un solo istante da questo peccato originale. e fin dai primi tempi del cristianissimo si sono create due correnti, tanto così per semplificare, due correnti, dei macolatisti e degli immacolatisti. Tra i macolatisti, pensate un po', ci sono anche dei santi veramente importanti, Sant'Agostino, per esempio, ci si Maria è rimasta macchiata, maculata. C'è Sant'Anselmo d'Aosta, si Maria è rimasta macchiata dal peccato originale. Contro questi macolatisti si sono sollevati quelli che noi chiamiamo immacolatisti. No, non è possibile che Dio abbia potuto permettere che anche per un solo istante Maria, la madre di Gesù, ripeto, la madre della Chiesa, la madre di ciascuno di noi, ma in modo particolare la madre di Cristo, Gesù, il perfetto per essenza e per eccellenza, venisse macchiata per un solo istante da questa macchia originale e quindi dare a Satana la possibilità di poter dire ho trionfato anche su Cristo, ho trionfato sulla mamma sua, ho trionfato su di tutti, nonostante la sconfitta subita ad opera dell'Arcangelo San Michele e degli angeli fedeli alla volontà di Dio. A un certo punto nella Chiesa Cattolica si sono formate addirittura due scuole, ripeto, dei macolatisti e degli immacolatisti. Tra gli immacolatisti fin dal primo momento, ma dobbiamo arrivare al 1265, al 1300, insomma per avere la grande figura di questo frate minore, di questo frate francescano, il beato Giovanni Duns della Scozia, grande conoscitore delle sacre scritture, grande filosofo, grande teologo, grande scrittorista, ma in modo particolare grandissimo amante della beata Vergine Maria. E proprio per questo amore immenso, sconfinato. Giovanni Paolo II lo chiamò cantore del verbo incarnato. Sì, 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 e cantore dell'immacolata concezione. Quindi sono dei titoli veramente che gli fanno grandi onore. Qualcuno, come parentesi, qualcuno potrebbe pensare, come mai un cantore così bravo, così forte, appena appena negli ultimi tempi è stato dichiarato beato e non è ancora santo. È un'obiezione senz'altro fondata. La tradizione vuole che nella riesumazione del beato Giovanni Dunscoto, pare che l'abbiano trovato così con un dito in bocca. Non so se ho cose che forse non si conoscono. Un dito in bocca. E qualcuno ha pensato, ma sarà morto santamente. Sarà stato sotterrato con ancora una morte apparente. Per cui questo gesto del dito in bocca abbia potuto provocare anche una certa reazione. Non andiamo oltre una certa reazione da parte del beato attuale, ma dell'umile frate minore Giovanni Dunscoto. Questo è stato uno dei motivi per cui sono passati tanti secoli e il beato Giovanni Dunscoto non veniva proclamato né servo di Dio né beato, soltanto, ripeto, negli ultimi tempi è stato proclamato beato. Anche perché poi per la proclamazione al santo della Chiesa universale, sapete benissimo, ci vuole un miracolo accertato, scientificamente ben provato e questo pare che la tradizione non l'abbia tramandato. Quindi non siamo in possesso di questo miracolo. L'unico miracolo veramente che ha fatto il beato Giovanni Dunscoto è quello di aver detto di fronte a tutto, di fronte a tutti, che Maria non poteva essere stata concepita con il peccato originale. Fin dal primo momento del suo concepimento Dio l'ha preservata dalla colpa, da questa colpa universale nella quale ingappiamo tutti, in previsione che sarebbe diventata la madre di Cristo, la madre del Salvatore, la madre del Messia. E ripeto, ancora una volta, è proprio un argomento che è contrario ad ogni modo serio di pensare. Possibile che la madre del Santo dei Santi potesse essere macolata, macchiata da questa colpa originale. Per cui il beato Giovanni Dunscoto contro tutto e contro tutti, ripeto, ha asserito sempre. È una cosa inconcepibile, è una mentalità che deve essere combattuta nella nostra mente e in modo particolare nel nostro cuore e nelle Sacre Scritture e nella parola di Dio non bisogna mai dire che Maria per un solo istante sia stata posseduta dal nemico infernale da Satana. Questa dottrina riguardante l'immacolato concepimento di Maria diede luogo a due correnti scolastiche ben precise. Ho detto un momento fa, tra macolatisti e immacolatisti. il beato Giovanni Dunscoto fa parte degli immacolatisti e fin dal primo momento. Egli ha insegnato nelle grandi università, non soltanto nella sua nazione, ma dopo entrò a far parte della Università di Parigi, insegnò alla Sorbona e quando gli altri colleghi professori del campo ecclesiastico in modo particolare vennero a sapere che il beato Giovanni Dunscoto sosteneva questa tese dell'immacolato concepimento di Maria Mettendosi addirittura, come dicevo un momento fa, contro Sant'Agostino, contro Sant'Anselmo di Aosta, contro Sant'Tommaso d'Aquino, contro tanti, tanti, grandi santi, grandi scrittoristi, grandi teologi, grandi filosofi, grandi studiosi, tutti i problemi religiosi, avvisarono la Santa Sede. Qui noi abbiamo un frate che sostiene l'immacolato concepimento di Maria e non ammette altra possibilità da parte nostra. Il Papa, se non vado errate, Clemente V, diede ordine a dei teologi di convocarlo, questo frate, il Giovanni Dunscoto, e fargli esporre tutta quanta questa dottrina per vedere se si arrivava realmente a qualcosa di positivo nell'ammettere questa verità che fino a quel momento era stata contestata. Il beato Giovanni Dunscoto seppe parlare così bene anche di fronte a questi grandi sommi teologi, vescovi, arcivescovi, studiosi di ogni caratura, che tutti arrivarono non alla certezza ma all'ammissione. Chissà che questo beato qui, che questo frate, allora non era ancora beato, era soltanto un grande studioso, questo frate può darsi che abbia un po' di ragione. E il sillogismo, questa specie di ragionamento medievale, fu più o meno racchiuso in tre verbi principali. Egli argomentò così, di fronte alla grande assemblea. Secondo voi fu una cosa conveniente, decente, che Dio costruisse questa mamma del suo figliuolo nel modo più perfetto possibile? E tutti risposi, beh, certamente, non è una cosa che va contro la Chiesa, non è una cosa che va contro la Sacra Scrittura, quindi è una cosa ammissibile. Ed egli coniò quel celebre verbo, decuit, che poi andremo a spiegare. Ma l'ho spiegato già, fu una cosa conveniente. Tutti risposero sì, fu una cosa decente e conveniente. E Dunscoto incalzò, dopo questa prima proposta, secondo voi Dio potè fare una cosa del genere? Dio potè costruire una mamma così perfetta? Una mamma che neppure per un istante venisse posseduta da Satana con il peccato originale. Certo che Dio potè fare tutto. A Dio niente è impossibile. Dio può realizzare tutti i progetti che vuole. Ecco allora la conclusione del discorso e del sillogismo medievale. Dunque Dio fece così. e tutti quanti ammutolirono. Dequit, potuit, ergo fecit. Dio fu una cosa conveniente. Dio poteva fare e la fece realmente una cosa del genere. Dunque Dio ha creato la beata Vergine Maria immune da ogni peccato non soltanto da quello attuale ma anche dal peccato originale fin dal primo momento del suo concepimento. Gli teologi in genere si fermano nel considerare una certa situazione. Noi nasciamo con il peccato originale però dopo veniamo liberati da questo peccato originale anche se poi rimangono gli effetti di questo peccato originale. Perché non è stato possibile anche in Maria che sia stata concepita in esistenza sempre dei macolisti. Non è stato possibile creare Maria anche con il peccato originale. E poi successivamente per grazia di Dio ne sia stata liberata il beato Giovanni Dunzscoto si oppone recisamente. Non è stato possibile fare una cosa del genere perché dopo Cristo Maria è la persona più perfetta che una mente umana possa concepire. Dio non poteva permettere ripeto ancora per un'ennesima volta neppure per un istante che Maria venisse colpita da questa colpa originale che ripeto si trasmette poi di generazione in generazione da padre in figlio. E mentre in noi con il battesimo, con la grazia di Dio e il peccato originale viene cancellato in Maria questa presenza non c'è stata mai. Maria è rimasta immune da ogni colpa anche da quello originale fin dal primo istante del suo concepimento. Non dal primo istante della nascita, attenzione, proprio del concepimento nel primo istante. Per cui non c'è stata proprio nessuna possibilità di dare al diavolo, di dire ecco anche per un solo istante sono stato padrone di questa creatura bella come il sole, tutta pulcra, es Maria. Noi cantiamo in questi giorni o perlomeno cantiamo nei giorni di preparazione alla solennità dell'immacolato concepimento. Ora, attraverso questa vittoria si poteva subito passare, secondo un ragionamento terra a terra, si poteva subito passare alla formulazione di una definizione pontificia, a un dogma. dal 1300 noi dobbiamo arrivare addirittura al 1854. Vedete quanti secoli sono passati perché c'è stato tutto questo travaglio teologico, mariologico, cristologico, ecclesiologico, scusate queste parole troppo grosse che meriterebbero di essere spiegate una per una, per arrivare poi al 1854 quando il grande pontefice Pio IX proclamò alla Chiesa Universale il dogma dell'immacolato concepimento di Maria. e qui potrebbe anche finire il discorso umano, ma qui bisogna subito far intervenire il progetto di Dio. Chi di noi non ricorda, per esempio, quelle che successe quattro anni dopo il 1854? Vittorio, voi lo sapete cosa successe? Le apparizioni di Lourdes. La Beata Maria, la Beata Vergine Maria, apparendo alla fangiù alla Bernadette Subirou, cosa disse? Quelle che noi troviamo scritte ai piedi della statua che è lì nella grotta di Massabielle a Lourdes. «Je suis l'immaculata conceptione», è nel dialetto del popolo, nel dialetto dei Pirenei, che poi in lingua francese più o meno si dovrebbe dire «Je suis l'immaculée conceptione», io sono l'immaculata conceptione. Ma cosa ne sapevo quella fangiulla dell'immaculato concepimento di Maria? Niente, Maria stessa che rivela questa fangiulla «Io sono l'immaculato concepimento». Quindi tutta quella tradizione ecclesiastica, patristica, tutti quegli studi precedenti vedono la loro confluenza nel 1858 proprio con l'apparizione della Madonna a Lourdes, dove si professa realmente come la madre di Dio, pura, santa e immacolata, la madre di Gesù, pura, santa e immacolata, la madre della Chiesa universale che deve essere pura, santa e immacolata, la madre di ciascuno di noi che deve essere puro, santo e immacolato. Padre Francesco, siamo alle battute finali, quindi possiamo definire, adesso possiamo chiamarlo Beato Giovanni. Eh beh, certamente lo dobbiamo, non lo possiamo. No, no, perché prima abbiamo parlato della sua fase iniziale, quindi non l'abbiamo, adesso siamo in conclusione, quindi il nostro Beato Giovanni Dunzo lo possiamo definire il precursore, diciamo, del dogma dell'immacolata concezione, perché poi come tu ci hai raccontato, si è battuto così tanto per questa fede, per la mamma celeste e poi nell'1858 sono le apparizioni di Lourdes. Quindi, Padre Francesco, come possiamo concludere con, per questo giorno solenne, il Beato Giovanni Dunzo? Il Beato Giovanni Dunzo, secondo me, non dovrebbe, ma deve essere conosciuto molto di più, perché non è quello che possiamo considerare, è il precursore di questo dogma dell'immacolato concepimento di Maria. Con lui noi arriviamo realmente al 1858 con l'apparizione di Lourdes e prima del 58 nel 54 con la definizione del dogma dell'immacolato concepimento da parte del sommo pontefice Pio IX. Quindi, però dobbiamo ricordare i nostri tre spettatori, innanzitutto per ricordare anche il Beato Giovanni, si festeggia l'8 novembre, non mi vorrei sbagliare, l'8 novembre, quindi in realtà poi abbiamo anche, voglio dire, delle fonti da poter raccogliere anche per chi vuole. Sì, ma c'è tutto un movimento. C'è tutto un movimento. Che viene portato avanti, specialmente nella nostra regione, da un nostro, da un mio confratello, un mio alunno, veramente, un alunno del liceo, il padre Giovanni Lauriola, che è il continuatore, sta creando delle scuole vere e proprie per far conoscere questo nostro confratello che merita, non meriterebbe, ma merita realmente una grande attenzione non soltanto da parte della Chiesa, ma anche da parte degli studiosi e anche da parte del popolo intero. Perché se c'è realmente una persona a cui bisogna dire grazie per questo dogma, dopo il sommo pontefice Pio IX, bisogna dire grazie al nostro confratello nel sacerdotio, il beato Giovanni Dunoscoto, che speriamo ognuno di noi voglia approfondire con un interessamento personale. Ultimamente è stato pubblicato anche proprio dal padre Giovanni Lauriola un volumone dove c'è tutta la dottrina del beato e se uno ha la possibilità di leggere quelle otto, novecento pagine può avere realmente l'idea completa di questo grande personaggio dei tempi passati, grande filosofo, grande teologo, grande frate prima di tutto, grande sacerdote della Chiesa Cattolica. Allora ringraziamo ancora padre Francesco per la bella testimonianza, soprattutto in questo giorno solenne dove ricordiamo il dogma e poi la festa dell'Immacolata Concezione e quindi un ringraziamento va anche al nostro caro beato Giovanni Duns che è stato, ricordiamola ancora una volta, il grande precursore della testimonianza dell'Immacolata Concezione.